Sono disperate le condizioni del 34enne che ieri si è lanciato dalla finestra di un condominio a via Volpe. Il giovane, che viveva da solo in preda ad un forte stato di agitazione, si è lanciato nel vuoto da un'altezza di una decina di metri. Un gesto che ha lasciato sgomenti vicini e gli stessi soccorritori che erano stati allertati da alcuni inquilini del condominio che avevano avvertito rumori e urla provenire dall'appartamento del giovane. Un volo dal terzo piano. Il 34enne è finito sull'asfalto riportando gravi ferite e molteplici fratture, soprattutto agli arti inferiori. Sul posto si è immediatamente portata un'ambulanza del 118. Il giovane è stato trasferito al pronto soccorso del Moscati e per le gravissime conseguenze è stato ricoverato nel reparto di rianimazione della città ospedaliera. I medici gli hanno riscontrato gravi traumi anche agli organi interni. Trascorsa la prima notte in rianimazione le sue condizioni restano critiche. Un'altra tragedia per l'Irpinia che a distanza di qualche giorno fa i conti con un altro episodio di cronaca legato ad un gesto autolesionistico. Il 7 luglio a Calitri si è totto a vita il comandante della locale stazione dei Carabinieri. Drammi che si stanno ripetendo ormai con una certa frequenza.